Laboratori per oltre 40 bambini che possono offrire la possibilità ai bimbi affetti dalla sindrome dello spettro autistico di far venire fuori la loro creatività attraverso la manualità. A promuoverli proprio in occasione della giornata della consapevolezza dell'autismo è l'associazione Autismo Fuori dal Silenzio di Pagani in programma sabato prossimo a Corbara. A breve si inaugurerà anche la nuova sede nell'appartamento acquistato dalla stessa associazione in via risorgimento ed attigo all'attuale bene confiscato alla criminalità affidato di dal comune. Ma non finisce qui, sono tanti i progetti messi in campo per i piccoli e le loro famiglie come ricorda il presidente Alfonso D'Angelo. In questa giornata abbiamo preparato i laboratori con i nostri bambini poi un po' per il problema del tempo li abbiamo rimandati a sabato quindi sabato teniamo un bel gruppetto di bambini, più di 40 bambini che godranno di una bellissima giornata i laboratori e quindi diamo vita anche a loro, uno spazio aperto per farli stare tranquilli nelle attività che fanno quotidianamente. Noi tutte le attività che facciamo ai nostri bambini sono strutturate e sono programmate dagli analisti del comportamento e dagli operatori che lavorano con loro per dare un'efficienza al loro comportamento è giusto che vengono valutati costantemente. Le attività che loro fanno sono attività di manipolazione quello che poi li porta ad avere anche una caratteristica in più anche nella gestione personale per cui noi diamo sempre un punto focale in quello che sono la gestione personale della loro vita quotidiana. Quindi noi miriamo tutti i progetti su quello che è lo sviluppo loro personale negli anni di vita che hanno, man mano che crescono noi gli inseriamo sempre cose nuove che servono e serviranno per il loro futuro. Questa sinergia che poi si crea anche con la comunità, con i cittadini abbiamo visto anche durante la festa di Natale in quanti erano presenti e non hanno voluto far mancare la loro presenza. La cosa bella è che anche persone che non hanno i figli affette da questa brutta patologia ci stanno vicino e ogni evento che facciamo siamo accarezzati da tantissima gente e quindi sentiamo il loro calore, il loro amore che noi aiutiamo molto ad andare avanti e a fare in modo che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta e non è sbagliata. Noi tina alla volta stiamo creando quello che poi era il progetto futuro noi come tutti sanno abbiamo comprato un appartamento vicino al bene confiscato che con tantissimi sacrifici abbiamo completato la settimana scorsa sono usciti i pittori dall'appartamento ma stanno pulendo quindi a brevissimo ci sarà l'inaugurazione di un'altra struttura collegata a quella confiscata per cui saranno degli ambienti importanti dove i nostri ragazzi possono usufruirne tutte le famiglie perché poi questo si fa per le famiglie hanno degli spazi che possono usufruirle tranquillamente e gratuitamente e fare in modo che i loro figli possano strutturarsi in attività importanti che servono per il futuro loro, per la loro vita e poi un'altra cosa importante che cerchiamo di far uscire insieme all'inaugurazione dell'appartamento qui dell'unione delle due sedi è quella del libro che abbiamo fatto che abbiamo già stampato ed è pronto per essere pubblicato e messo anche in campo nelle scuole grazie a tutti